Questa mattina con il Presidente della Provincia, nonché Sindaco di Cotone, Ugo Pugliese, abbiamo fatto un sopralluogo sulla strada provinciale che collega Cotone a Papanici. Perché? C'è una situazione di pericolo per la vita, ma ogni giorno c'è qualcuno che rischia la vita per le condizioni in cui versa quella strada. Era stata ipotizzata una soluzione dopo un incontro che c'era stato tra un comitato cittadino, quello per il diritto dei cittadini di Papanici e il Presidente della Provincia. Questa soluzione si è rilevata impraticabile. Adesso se ne cercano altre risoluzioni. Sentite cosa ci ha detto Ugo Pugliese. Siamo con il Presidente della Provincia nella sua macchina, perché è la sua macchina, quella personale, non quella dell'ufficio. Siamo venuti a fare un sopralluogo sulla strada di Papanici che è diventata pericolosissima per gli automobilisti che la devono utilizzare. Era già pericolosa ma da quando sono iniziati i lavori per la costruzione dell'impianto che salva la città di Crotone, perché si tratta di una vasca di laminazione che in caso di pioggia violente abbondante dovrà fermare l'acqua, una delle corsie della strada non esiste più. A lui si è rivolto un comitato cittadino di cui faccio parte anch'io, come cittadino ovviamente, e ha chiesto un impegno. L'impegno il Presidente della Provincia ce l'ha messo, solo che la soluzione non arriva. Allora stamattina è stato lui a propormi di venire qui sulla strada a vedere le condizioni proprio del manto stradale. Ha visto Presidente? Sì assolutamente, è una questione di rimettere in sicurezza immediatamente la strada, nell'immediatezza anche con una apposita idonea cartellonistica e poi valutare oggettivamente il da farsi perché noi abbiamo tentato una prima strada per trovare una soluzione, perché il problema rimane sempre quello oggi, le risorse economiche non ci sono, la provincia non ha i soldi per pagare i dipendenti e di conseguenza siamo al punto di partenza. Ciononostante non si può non prendere atto di com'è la situazione e quindi abbiamo già inviato anche una interlocuzione con la Regione Calabria, anche come Comune di Crotone, atteso che queste opere sono del Comune e quindi cerchiamo le opere realizzate, il cantiere è un'opera realizzata dal Comune di Crotone e quindi cerchiamo adesso di fare sinergia per trovare una soluzione tra Regione, Comune e Provincia per porre rimedi a questa situazione della strada di Papanice. C'è il massimo impegno come già sai, il professore, sa già che io ho già da tempo che mi sto impegnando su questa... L'abbiamo pure verificato, giorno per giorno l'abbiamo verificato l'impegno. È chiaro che amministrativamente ci vuole un po' più di tempo, non è una soluzione che si può trovare nell'immediato ma l'impegno è quella di quantomeno metterla in sicurezza per poi trovare una soluzione definitiva. Quindi adesso si tenterà con la Regione? Sì, adesso tentiamo un altro passaggio con la Regione, proprio di due giorni fa l'invito alla Regione a darci una mano in questo senso, a venire incontro alle amministrazioni per trovare una soluzione. Allo Stato ancora però, oggettivamente, bisogna dire la verità ai concittadini, allo Stato la soluzione ancora non c'è. Perché quella che era stata tentata di fare ha trovato un muro di gomma nell'istituzione che doveva essere più malleabile, diciamo così? No, abbiamo tentato una perequazione che non è percorribile amministrativamente, per cui abbiamo dovuto abbandonare quella scelta come provincia e tentare adesso un'altra strada e vediamo cosa e come riusciamo a risolvere il problema. Intanto si parte con la cartellonistica. Intanto partiremo sicuramente con la cartellonistica per la messa in sicurezza dei cittadini. Perché visto noi siamo come una macchina, come dire, una macchina di fascia A, nel senso che è una macchina che ha una buona ammortizzazione, però come vede la stiamo percorrendo a 20 all'ora la strada e a 20 all'ora con una macchina che ha ammortizzatori ottimi e traballa. Sì, oggettivamente ci sono questi avvallamenti che tra l'altro sono molto più insidiosi della buca effettiva che si vede. L'avvallamento è quello che è più, diciamo, è un po' più pericoloso da un punto di vista della guida vera e propria. Dall'altro lato, visto le macchine che arrivano, non hanno la coscienza di camminare piano piano. Vanno veloci perché dall'altro lato non ci sono problemi. Per questo è necessaria la cartellonistica perché se dovesse protrarsi ancora questo stato di cose saremmo costretti poi a trovare una soluzione alternativa a questa strada che comporterebbe sicuramente un problema e sicuramente un fastidio ai nostri concittadini abitanti della frazione Papanice. Anche l'alternativa a cui dice lei non è praticabile, anche lì perché c'è il Comune di Scandale che lo utilizza, anche lì ci sono problemi. Intanto una delle alternative potrebbe essere il senso unico alternato sulla strada ma diventa veramente una cosa molto complicata. Diventa complicatissimo e quindi dobbiamo aspettare. Quindi un po' di pazienza, un po' di prudenza, non guasta mai, l'invito lo faccio a tutti i cittadini crotonesi, a tutti i cittadini di Papanice. Occhio, la cartellonistica la metteremo su da qui a breve e d'altra parte come vede in alcuni punti è già stata messa, bisognerà fare un'ordinanza specifica per questa strada. Grazie.